Siamo proprio sopra la rumorosa via San Bernardino a Bergamo dove Pietro Ghislandi ha mosso i suoi primi passi da comico nel senso che è nato nella provincia ma poi si è trasferito qua. In questa primavera che tarda ad arrivare, nostro ospite, un saluto appunto a tutti quelli che ti guarderanno e che cosa ti ricorda appunto la tua città, la bellissima città alta alle nostre spalle. Ciao Jessica, ciao amici di US News, perché è così? Perché fa ancora un freddo terribile nonostante siamo alla primavera e è inoltrata già, però questo è proprio come diceva lei il quartiere dove io ho mosso i miei primi passi facendo lo spiritoso o come diceva mia mamma maestra mamma Amalia che saluto, facendo il bambo. Mio figlio facendo il bambo guadagna di più di mio marito che fa il segretario comunale nei vari paesi, quello in cui sono nato che era Comunuovo per arrivare poi qui in Bergamo dove io ho iniziato i miei primi esperimenti da comico quello che se a scuola faceva due battute spiritose poi dice ma aspetta me le scrivo poi le collego a delle altre battute, diventa un racconto, diventa una gag, diventa una cosa spiritosa e poi per fortuna è diventato il mio lavoro. Questa definizione di bambo era in senso affettuoso, cioè precisiamolo, significa sciocco era in senso affettuoso ovviamente o i tuoi davvero non capivano come si potesse guadagnare facendo il comico? Cosa intelligente, vieni qua vicino a me così vedono anche te domanda molto intelligente perché in effetti soprattutto nelle province c'è il condizionamento della mentalità provinciale, la mentalità bigotta e l'esempio è andare allo sportello del comune di Bergamo a rifare la carta d'identità e vedere che allo sportello la signora ti chiede professione, attore sì ma di lavoro cosa fa? Attore ho detto, sì ma di lavoro questo che tu dici in effetti è un elemento delicatissimo perché la mamma maestra molto intellettuale diceva non fare lo stupido, non fare il bambo, fai giullare e non avrai futuro mio padre, segretario comunale, laureato in giurisprudenza, diceva io faccio lo spiritoso, sono un barzellettiere mio padre era molto simpatico, non c'è più da molti anni purtroppo però diceva magari potrà diventare una professione mia madre quando ritardavo per fare i primi esperimenti degli spettacoli di Cabaret e mi diceva ecco ho tornato tardi anche stanotte mio padre facendomi l'occhiorino diceva eh non devi far così tardi come è andato lo spettacolo nella trattoria per cui mio padre ci credeva, è quello che ha dato molta forza a me nell'andare avanti e mia madre un po' di meno poi ha capito che è diventato un lavoro e mia madre diceva tu dovresti regolarti in ingegneria come il figlio del Bidello vi dico la realtà odierna qual è il figlio del Bidello Tacchini di Alzano ingegnere meccanico alla Brembo è in cassa integrazione io in una sera di un mio spettacolo guadagno quasi lo stipendio di un ingegnere come quello che voleva mia madre bene allora adesso entriamo in questa casa bellissima e ci racconterai un po' degli altri aneddoti questo io lo vedo come un augurio perché anche a me capita cosa fai la giornalista sì ma poi nella vita faccio la giornalista quindi speriamo che sia un augurio anche per la nostra carriera ti porto fortuna, vedrai ci vediamo dopo la musica poteva essere la strada alternativa per Ghislandi perché ha studiato piano per cinque anni ma poi la tua è stata un'altra scelta la scelta di fare l'attore quando hai avuto consapevolezza che il palcoscenico sarebbe stata la tua casa esattamente io hai detto tu ho studiato piano nel senso che al conservatorio uno deve frequentare la scuola l'ho fatto come privatista e l'ho fatto un po' piano ma l'ho studiato piano forte questa è una battuta la passione della musica arriva un po' da lontano il fratello di mia mamma mia mamma Maglia Ravasio è la sorella del famoso insegnante di fisarmonica maestro Luigi Ravasio che in mezzo a Bergamo ha insegnato a grandi della musica uno dei suoi allievi è Facchinetti dei Poo uno dei primissimi allievi suoi io quindi ho cominciato a suonare fisarmonica da piccoli ragazzino con la mia fisarmonichina piccolina facevo i miei concerti in questa fisorchestra primavera scatta il meccanismo della passione per la musica ma la passione della musica è la regata comunque al fatto di esibirmi nelle serate perché tra la prima parte e la seconda parte del concerto della fisorchestra del maestro Ravasio c'era un piccolo imitatore quindi io avevo sette anni mi esibivo imitando il cane, il gatto che si azzuffano, che litigano il rombo della Ferrari, della Formula 1 queste piccole cose che mi hanno portato diciamo hanno preparato il terreno per arrivare poi al fatto della della ventriloquia e della comicità all'inizio il primo palcoscenico è stato proprio qua sotto con due amici come vi chiamavate e quali erano gli esperimenti che facevate in questo bunker come l'avete chiamato voi avendo proprio un box grande un box magazzino molto grande io ho detto come lo chiamo lo chiamo il bunker della risata il bunker del sorriso mi sono creato, inventato questo teatrino e mi trovavo con Oreste Castagna e Giuseppe Cella cabarettisti con me con i quali mi sono inventato il nome di quelli del bunker erano gli anni 80 abbiamo fatto i primi spettacoli insieme e oltretutto ben due anni di tv dai ragazzi su Rai 1 cartoni magici condotta insieme quindi il trio quelli del bunker conduceva, raccontava ai bambini tutti i vari intermezzi tra i cartoni animati che poi venivano trasmessi su Rai 1 insieme ad Elisabetta Gardini che faceva la prima apparizione in televisione su Rai 1 dopo essere uscita dalla bottega di Gasman una bottega di Gasman di Firenze ci dicevi che la voce è stato lo strumento che ti ha caratterizzato di più e che ti caratterizza tutt'oggi quanto ti ha aiutato la scuola e quanto invece fa parte di te da sempre per fortuna per me la voce è un qualcosa di più diciamo più collaudato rispetto a un attore normale l'attore standard la scuola di teatro ci vuole quindi non rinnego la scuola del teatro alle grazie che ho fatto a Bergamo da cui sono usciti grandi attori tra cui un attore mi ricordo Moroni si chiama si chiama sì sì penso che ci sia ancora che è stato uno degli Arlecchini un Arlecchino di Arlecchino servitore di due padroni del teatro piccolo di Milano la scuola delle grazie mi è servita come prima formazione quello che poi ti voglio dire è dalla scuola di teatro di città di provincia dico vado a fare quella nazionale mi scrivo per fare l'esame da missione alla scuola del piccolo di Milano scuola prestigiosa per grandi attori parliamo di 35 anni fa per fortuna poi ho cambiato idea perché ho detto vado e faccio troppo l'attore drammatico quello che parte dalla provincia e dice sì che io sono bergamasco e dopo la scuola di teatro è così è ripulito di tutta quella umanità di tutta quella sua caratterizzazione parla molto bene con lo sguardo ingessato e impostato allora ho detto lasciam perdere quella scuola lì voglio fare il comico ad un certo punto poi è arrivato il cinema com'è questo mondo che noi vediamo ti abbiamo visto nei film di Piraccioni più conosciuti diciamo come è stata questa esperienza? era l'84 a Bergamo stava per partire l'organizzazione di un film importante di Renato Pozzetto Renato Pozzetto andava fortissimo in quegli anni era il re del cinema italiano Renato Pozzetto decide di fare il film è arrivato mio fratello due fratelli gemelli i registi erano Castellano e Pipolo famosissimi perché erano i registi dei film di Celentano cercano questo fratello gemello girano l'Italia per quasi un mese mi arriva la richiesta avendo visto un filmato sulla mia faccia la richiesta di una convocazione a Milano in un'agenzia in un'agenzia artistica incontro questi due signori molto alti che mi dicono ma senta lei è libero due mesi possiamo è primavera queste stasi stanno a girare Castellano e Pipolo mi ingaggiano vengo ingaggiato come controfigura di Renato Pozzetto nel film è arrivato mio fratello ho girato per un mese e mezzo fianco a fianco con Renato Pozzetto quindi ho imparato anche a imitarlo perché ti ho detto praticamente e mi 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 ok e se dottor Jessica un mese e mezzo con lui un mese e mezzo di grande scuola di cinema anche se io figuravo sempre la controfigura ero lui il doppio di lui ma mai inquadrato e con la recitazione che era sempre solo la sua grande scuola dicevo tecnica e grande scuola di umanità perché in un mese e mezzo il grande Renato Pozzetto mi ha detto due parole e c'è come va tutto bene mi ha detto in due mesi come va tutto bene e beh insomma però dai è un'esperienza che puoi raccontare unica nel suo genere unica sicuramente perché posso essere quello che effettivamente fossi stato in America avessi potuto fare la controfigura di Robert De Niro sarei stato gasatissimo ma saremmo anche diventati amici l'Italia già di quegli anni con il mondo del cinema molto chiuso molto egoistico sai quando uno è protagonista ha paura delle battute degli altri come se si può fare un accenno di polemica un Massimo Boldi con cui ho lavorato ha avuto paura di una mia battuta vicino a lui in una fiction che gli rubava spazio e gli rubava la risata quindi la mia battuta vicino alla battuta di Massimo Boldi che fine ha fatto è stata tagliata è rimasta la battuta di Massimo Boldi grande attore che è conosciuto all'estero più che all'estero conosciuto penso nella Valimania un po' di polemica posso fare ma sì assolutamente anche perché è un mondo talmente complicato che le persone normali non se lo immagino non se lo immaginano neanche è un mondo dove ci sono i miracolati è un mondo dove un Massimo Boldi che non è un attore è definito un miracolato non sa recitare ma è stato protagonista di film che gli hanno fatto fare un sacco di soldi questo in America non succede in America c'è la qualità nella musica e nell'arte degli attori che sanno fare di tutto ballano cantano suonano si fanno una gavetta incredibile crediamo comunque nella nostra buona Italia crediamoci con Piracioni come è andata il Bergamasco li è emerso proprio a 360 gradi sì sono contento anche se dico con modestia dico non ho mai avuto un ruolo importantissimo però è servito il fatto di essere in ben suoi tre film spero che mi chiami da un giorno all'altro perché sta preparando un nuovo film e in un film di Piracioni c'è la grande serenità di lavorare la sua grande generosità al contrario di altri nomi che ho fatto un Piracioni che durante le riprese del film Il Principe e il Pirata mi dice che ho recitato troppo velocemente perché è un po' il mio vizio di parlare velocemente e mi dice no senti si rifà ma io non ho capito perché dobbiamo rifare tutta la scena delle mie battute perché mi dice te devi rubare qualche secondo in più pensate la generosità di un grande del cinema perché comunque è uno che ha in mano l'industria cinematografica che dice nel grande schermo anche due tre secondi in più sono vita vita artistica e di business per uno che si fa vedere in Italia mi ha detto ripeti tutto perché lo devi fare più lentamente grande generosità di un numero uno i numeri uno gli attori molto famosi e molto ricchi a quel livello di qualità alta sono anche molto generosi arriviamo però a vedere che cosa fai poi tu durante il tuo spettacolo e questa cosa dell'essere ventriloquo ti paga proprio perché in Italia siete solo in due se ci vuoi spiegare la difficoltà o la naturalezza nel farlo insomma non è una cosa che tutti i giorni a cui approcciamo per cui ecco sicuramente è un fenomeno diciamo un pochettino raro e particolare ed eccezionale ed è la forza con la crisi che c'è di poter essere fuori dalla concorrenza spietata e dire sono l'unico ventriloquo se uno deve organizzare o deve proporre un artista un pochettino alternativo il solito monologhista romano oh vi racconto questa stadia di Roma oh sono stato ieri di Burtina questi romani che hanno stancato i maghetti i barzellettieri allora sono andato dal forza il ventriloquo quello che così all'improvviso tira fuori questa voce particolare che sembra che venga da fuori e che poi la dice un pupazzo con una scuola che mi sono fatto un po' da solo ha aiutato un po' però dall'esperienza di un grande bergamasco un nome internazionale che è di Bergamo qualcuno purtroppo non sa chi è è il Walt Disney italiano Bruno Bozzetto Bruno Bozzetto che con i suoi disegni animati ha inventato il signor Rossi ha fatto un film capolavoro allegro non troppo che è famoso nel mondo è stata la risposta al film di Walt Disney Fantasia Bozzetto tanti anni fa mi chiamò mi disse so che lei fa delle voci particolari mi fa la voce mi fa la caffettiera allora io faccio la caffettiera con il caffetto usciva mi fa la voce di un bambino tutti gli esperimenti di voce che ho fatto con lui per arrivare a fare dei suoi personaggi dei vecchietti del West che ci sono nei cartoni animati sono ancora miei e ragazzi mi ricordo di essere stato intervistato da USB News ho detto giusto sì c'era una giornalista bellissima Jessica e allora ho detto eravamo giù nel far west a Cansansetti ho trovato lo seriffo Diego che mi ha detto ti voglio restare mi ha fatto vedere la sua stella dal seriffo molti personaggi che ho fatto ancora mi sono serviti per incrementare tutta questa esperienza di voce e soprattutto allenare le corde vocali a fare delle cose un po' particolari per arrivare alla ventriloquia penultima tappa prima di arrivare al fatto di dire faccio il ventriloquo è stata la voce di un grande personaggio di un grande autore dell'animazione italiana Bruno Bozzetto l'ho già detto Osvaldo Cavandoli che è un autore milanese che non c'è da qualche anno che ha inventato Mister Linea quel famoso personaggio Linea Bianca su fondo nero che è stato il testimonia di una pentola a pressione famosa Agostina facciamo comunque il nome sì sì io quindi ho fatto per ben cinque anni la voce di questo personaggio che faceva questa voce è recitata in Gramlò che è un po' quello che ha inventato Dario Fo in tutte le lingue il Gramlò francese vuol dire parlare con i suoni senza dire nessuna parola con un senso logico questo Mister Linea mi ha dato un po' di popolarità anche all'estero in Svizzera soprattutto dove facendo gli spettacoli facevo anche la voce di questo personaggio da lì sono arrivato alla ventriloquia dando la voce al mio pupazzo che è il pupazzo Sergio che mi permette tuttora di vivere dopo ben 35 anni di lavoro sì un po' più di 30 e mi permette di dire non c'è concorrenza non ho crisi continuo a lavorare nelle feste private le feste di paese con la gavetta che fai ogni giorno come tutti e con un pupazzo che è la tendenza della moda di oggi da qualche anno possiamo sentirlo allora? è certo è arrivato il momento ma come posso fare non avendo qui il pupazzo perché è a dormire è in vacanza brava è a riposarsi che è in vacanza il vero ventriloquo fa la chiusura di questa intervista con dei semplicissimi occhiali da sole che così diventano però un pupazzo simpatico molto pimpante ciao ciao tutto bene? sì sei contento di essere qua? certo chi è? la conosci? sì fantastica che è la giornalista hai visto? Jessica carina eh e lui? guarderà il cameraman oh è il regista lui è di Roma sei di Roma ma no non è di Roma dimmi un po' facciamo pensiamo al futuro eh ragazzi che schifo che tragedia no non è così pensiamo a un futuro migliore come dice Jessica crediamo nell'Italia ma tu quanto sarai in futuro più anziano come sarai vuoi farmi vedere? sì prendi il fazzoletto l'occhiale è ragazzino a proposito quanti anni hai? sette cioè? ho fatto l'asilo con lei ma scusa eh adesso non esageriamo fammi vedere come sarai quando sarai anziano e guarderai i servizi fatti da dalla non mi ricordo più US News US News la guarderai anche quando sarai anziano? certo fammi vedere Sim Salamin in Kotechin l'occhiale diventa un arzillo vecchietto di vertova ciao ciao tutto bene? tutto bene sei contento di essere qua? gasatissimo ascoltami saluta Jessica ciao tesoro sei contento? gasatissimo qui ti guardano tutti? lo so come mai parli male? non ho la dentiera come mai? l'hai dimenticata a casa? no gliel'ho prestata a Diego benissimo io direi è straordinario così da vicino davvero una cosa proprio straordinaria grazie grazie a te per averci ospitato grazie a voi e speriamo di vederti presto o negli spettacoli o nei cabaret o in tv comunque insomma comicità pulita è davvero stato un piacere grazie grazie mille vi aspetto al mio spettacolo quando faccio uno spettacolo perfetto magari nelle zone vostre vicino a voi nelle valle dove ho vissuto la mia valle seriana meravigliosa dove ho vissuto per un po' di anni anche a Ranica prima di arrivare qui in città mi andrebbe bene mi seguite uno spettacolo e facciamo una cosa particolare ok Diego promesso? grazie bacio a Jessica grazie ciao a tutti ciao